Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo episodio su Rise of Kingdoms e comunque sul Jump Project Sono qui per darvi gli aggiornamenti degli ultimi giorni perché per chi non mi ha seguito su Twitch e naturalmente non li sa Quindi voglio invitare nuovamente tutti quanti a venire a seguirmi su Twitch Li faccio la live praticamente quasi ogni sera su Rise of Kingdoms Dove praticamente vado ad annunciarvi degli aggiornamenti che ci sono su Rise of Kingdoms Oltre al fatto che comunque potete farmi domande in agente al gioco, in agente al Jump e tutto quello che vi pare Cioè comunque qualsiasi cosa di cui voi volete parlare ne possiamo tranquillamente parlare Quindi sarei molto contento se veniste da me a seguirmi anche su Twitch Perché in futuro vorrei praticamente essere al 99% su Twitch e all'1% su YouTube Non perché YouTube non mi piace ma semplicemente perché è un metodo di conversazione più diretto Ecco semplicemente per questo motivo ed è anche più comodo se proprio devo dirla tutta Quindi mi farebbe piacere se tutti quanti vi uniste direttamente su Twitch Sarebbe molto più bello Anche perché quando inizieremo il Jump Project, quando inizieremo a giocare e tutto quanto Streamerò tutto quanto quello che si farà Quindi farò tante ore di live streaming dove sarò proprio lì a giocare in live con voi Ok? Quindi insomma saremo sempre in contatto in tempo reale se così possiamo definirlo Ad ogni modo senza andare oltre troppo su questa storia Sono qui perché giustamente per le persone che non mi hanno seguito su Twitch Devo darvi anche a voi gli aggiornamenti riguardo al Jump Project Allora quali sono le ultime novità? Allora le ultime novità sono che innanzitutto voglio dirvi che il progetto Quindi il Jump partirà tra il 10 e il 15 di luglio Quindi tra il 10 e il 15 di luglio si partirà Quell'asso di tempo, adesso il giorno preciso ancora non lo sappiamo Però in circa in quei giorni là E Jumperemo praticamente in quei giorni Quindi creeremo i profili, faremo i 7 giorni di pre-Jump E poi Jumperemo nel futuro regno Una volta che saremo nel futuro regno Saremo tre alleanze principali Ok? Tre alleanze principali Adesso vi faccio vedere anche la foto Saremo praticamente tre alleanze principali Questo sarà praticamente la mappa del nostro regno Saremo nel Seed B Quindi Seed B avranno tutti questa stessa rotazione di mappa Noi saremo praticamente in alta a sinistra Quindi dove c'è scritto praticamente 1 Quella sarà praticamente la nostra prima zona La nostra zona 1 dove esponeremo Dove ci dobbiamo mettere E creeremo praticamente la nostra prima La nostra prima zona Proprio lì Il nome della nostra alleanza È cambiata ancora purtroppo E sarà Rise of Rome Ok? Quindi la nostra prima alleanza sarà Rise of Rome Poi ci sarà la seconda alleanza E la terza alleanza Che saranno Rise of Hans Che è praticamente l'alleanza numero 3 E ci sarà Rise of Greece Cioè Grecia in italiano Che sarà la seconda Dove c'è scritto numero 2 Ok? Nelle altre tre zone morte Quelle che vedete dove non c'è nessun numero Saranno praticamente ricoperte Dalle persone che saranno presenti nel regno Cioè nel senso che Se ci sono altre alleanze molto forti Vanno a coprire quelle determinate zone Ok? Il piano consiste in questo Allora Noi saremo tre alleanze principali Con tre sotto alleanze Ok? Agli inizi Successivamente diventeranno tre alleanze principali Un'alleanza che sarà la quarta alleanza del regno Quindi la quarta alleanza in totale del regno La più forte In quarta posizione Farà parte del futuro progetto Che entrerà poi nel KVK Ok? Quindi nel KVK futuro Ci saranno quattro alleanze e non tre Nel regno in sé per sé Sarà gestito però da tre alleanze Ok? Quindi queste prime tre alleanze Una alleanza Quindi la Rise of Rome Sarà gestita da me Come leader dell'alleanza Con come co-leader Ci sarà Shiryu Ci saranno poi altri membri R4 Tra cui probabilmente alcuni di voi Ma non sarete naturalmente tutti a essere italiani Nella gestione dell'alleanza Ma ci saranno anche inglesi Questo per chi sa l'esperienza di gioco Questo va ad evitare che saremo tutti offline Nello stesso momento Quindi bisognerà avere una copertura totale Di 24 ore su 24 nell'alleanza Quindi quando noi italiani saremo offline Ci dovranno essere magari i vietanamiti online A coprire l'alleanza Per farvi un esempio generico Stessa cosa nelle altre due alleanze Naturalmente Quindi saremo tutti suddivisi La suddivisione dei membri avverrà in questi giorni Adesso non sovrei dirvi come e quando e perché Venite divisi Però La cosa che vi posso dire È che le balene nel nostro jump Verranno suddivise E a pari numero in ogni alleanza Quindi ogni alleanza avrà lo stesso quantitativo di numero Di balene Ok? Quindi questo è molto importante Che voi lo sappiate Così non vi arrabbiate Se direi Quello è più forte perché non siamo là No, semplicemente Tutto sarà nella gestione Dei leader delle alleanze Per far sì che porta sull'alleanza Meglio delle altre Detto questo E Come vi dicevo Saranno tre alleanze Allora All'apertura dei pass di livello 1 Semplicemente Conquisteremo tutti i pass di livello 1 E boh Finisce là Non credo che condivideremo i premi Dei pass di livello 1 Perché sarebbe un po' un casino Spostare Tutta la gente Cioè nel senso Spostare tutta la gente In ogni caso Per quanto riguarda Comunque l'apertura Dei pass di livello 1 Pass di livello 2 Altari Altari in zona 2 Pass di livello 3 Tutti quei premi là E quei premi là Verranno suddivisi Solo alle persone che sono R Porco mi stai Mi sta cadendo il telefono Alle persone che sono R5 R4 E a due E i due membri Più forti Dell'alleanza Quindi ogni alleanza Avrà le R5 Gli R4 I primi due membri Più forti dell'alleanza Che andranno a prendere i premi Dei pass Degli altari O qualsiasi roba sia Quindi usciranno Dall'alleanza Entreranno nelle alleanze Che deve andare a conquistare Quella determinata cosa E si andranno a prendere I premi Questo è molto semplice E chiaro Chi verrà espulso Dall'alleanza Per andare a prendere I premi Momentaneamente Saranno le persone Più deboli dell'alleanza Quindi mettete caso Che siamo 8 R4 1 R5 Sono 9 E due Più forti Sono in totale 11 persone Quindi le 11 persone Ad esempio Più scarse Con meno potere Di tutta l'alleanza Di dove si dovrà andare A prendere i premi Verranno momentaneamente Espulse Per far prendere i premi A quelle persone Che sono R5 E R4 Le due persone più forti Dell'alleanza Dopodiché una volta Presi i premi Potranno tranquillamente Rientrare Questa cosa Naturalmente sarà fatta Per entrambe le alleanze Quindi in totale Saremo circa Dei 22-25 membri Quindi 22-25 persone All'incirca Verranno espulse Dall'alleanza Per far prendere i premi A quelle persone là Questo perché accade Non perché c'è disprezzo O perché si voglia creare Una differenza di potere Tra una persona All'altra Ma semplicemente Perché i gestori E le persone più forti Dall'alleanza Devono prendere i premi Proprio perché sono lì A gestire il regno E quelle persone più forti Proprio perché serviranno Poi nel futuro KVK Per far sì Che riescano Ad essere al comando Dell'esercito Molto semplicemente Questo è l'obiettivo Quindi Non vi arrabbiare Se non prendete i premi Ma non è perché Uno non vuole Ma semplicemente Perché bisognerà Pensare al futuro Non perché Uno non vuole Far crescere a voi Non vuole far prendere premi A voi Il vostro unico obiettivo È cercare di non Scendere troppo di potere Quindi di non rimanere Troppo indietro di potere Al confronto Delle altre persone Così potete Tranquillamente Rimanere nell'alleanza E prendere comunque I premi Di quell'alleanza Che sta conquistando In quel momento Quei pass Ok Quindi l'unico vostro obiettivo È cercare di non scendere Di non essere troppo Bassi di potere Quindi cercare di giocare Crescere E non rimanere indietro Al confronto delle altre persone In modo tale Che non venite espulsi E semplicemente I premi Ne riprendete Ne prenderete meno Naturalmente Di quelle persone Che si spostano A destra e a sinistra Per prendere i premi Ma Purtroppo Tutto non si può fare Questo immagino Che voi lo capiate Detto questo Questa è l'organizzazione Successivamente Quindi una volta Che saranno aperti I passi di livello 2 Entreremo Nella zona di livello 2 Agli inizi Entreremo soltanto Le prime tre alleanze Conquisteranno Praticamente Tre altari Successivamente Lasceremo Il pass di livello 2 Alle alleanze Un pass di livello 2 Alle alleanze A se stanti a noi Quindi agli altri due Territori Entreranno anche loro Nella zona di livello 2 E potranno Mettersi lì a farmare All'apertura Del pass di livello 3 In quel caso Nella zona di livello 3 Entreranno sempre Solo e soltanto Le prime tre alleanze Del regno Ok Successivamente Conquistati i pass di livello 3 Lasciremo Un pass A testa Per la quarta La quinta E la sesta Alleanza del regno La quarta La quinta La sesta Alleanza del regno Avranno entrambi Tutte e tre Un pass di livello 3 A testa E disponibile Per accedere alla zona di livello 3 La zona di livello 3 Non deve essere accessibile Cioè nel senso Hanno il pass Perché in caso di bisogno Possono permettersi di entrare Ma non hanno L'accesso In zona 3 Nel senso che La zona di livello 3 Sarà solo E soltanto Per quanto riguarda La zona di farm Delle prime tre alleanze Del regno Loro avranno Il pass di livello 3 Soltanto in caso Ce ne Dovesse essere Il bisogno Di dover entrare Così in caso Hanno già la possibilità Di essere lì Però non dovranno Assolutamente Entrare nella zona Di livello 3 Detto questo Questo qui è il piano Leggermente diverso Dall'ultima volta Che ve l'ho detto Ma il meccanismo È sempre lo stesso L'unica volta L'altra volta Eravamo 4 alleanze Adesso saremo 3 In KVK Diventeremo 4 alleanze Con le prime 3 Principali E la quarta Che sarà da supporto Molto semplicemente Come in ogni KVK Credo che sia Non credo ci sia Qualcosa di diverso Dalle altre parti Detto questo Vi faccio vedere Adesso qui potete Selezionare Praticamente L'alleanza Rise of Rome Rise of Greece Rise of Hans Naturalmente Io seleziono Rise of Rome Perché sono il leader Di quell'alleanza Voi potete scegliere In che alleanza stare Sappiate che Se ci sono 90 persone In Rise of Rome E ce ne sono 10 Rise of Greece Naturalmente Verrete suddivisi Perché purtroppo Non può esserci Così tanto squilibrio Questo mi sembra Abbastanza Abbastanza ovvio Detto questo Vi voglio far vedere E poi Anche Il Jump plan E No Non è scritto qui Ma è scritto In Kingdom plan Praticamente Qui c'è scritta la stessa roba Di quello che vi ho detto Prima Quindi Praticamente Ci sono tre alleanze Hans Rome E Greece Ci sono tre alleanze principali Tre da supporto E I premi Verranno suddivisi Negli R5 E gli R4 E le due persone più forti Delle alleanze E nella zona di livello 1 Come vi dicevo Le regioni Avranno La prima alleanza Avranno accesso Alle regioni Alla zona di livello 2 I premi Verranno condivisi Come vi ho detto prima R5 R4 E due persone più forti Delle alleanze Stessa cosa in zona 2 Come vi ho detto prima In zona 2 Entreranno poi anche La quarta La quinta La sesta alleanza Del regno E in zona 3 Entreranno soltanto La prima La seconda E la terza alleanza Del regno In caso di necessità Posso entrare anche La quarta La quinta E la sesta alleanza Molto semplicemente È questo Per quanto riguarda Il jump plan Non vi vado qui A spiegare la stessa cosa Perché è rimasto invariato Quindi quello che dovrete fare I primi sette giorni di gioco È la stessa identica cosa Di quello che vi ho detto L'altra volta Quindi non sto qui A rispiegarvi Sempre le stesse cose Altrimenti il video Va a prolungarsi E diventa ripetitivo E altre novità Da darvi Non credo ce ne siano Questo dovrebbe essere tutto E Molto importante Che quando entrate Selezionate l'alleanza Se vedete che avete Più alleanze selezionate Non vi preoccupate Oppure se non riuscite A fare qualcosa Non vi preoccupate Perché in ogni caso Poi vi divideremo noi In caso di bisogno Perché possiamo selezionarvi E cambiarvi Quello che è poi Il vostro La vostra alleanza Il vostro ruolo Credo che non ci siano Altre novità da darvi In ogni caso Per qualsiasi altra novità Vi tengo aggiornati Qui su youtube Ma anche su twitch Invito nuovamente A tutti quanti A passare sul mio canale Di twitch A seguirmi Se non avete il link Lo trovate Tranquillamente In qualche post Oppure se avete bisogno Scrivetemi Qui sotto nei commenti Il link Se vi serve Ve lo condivido Così ce l'avete E potete venire A guardarmi Successivamente Creerò un canale Discord Per l'alleanza Creerò un canale Telegram Per l'alleanza Così possiamo Rimanere ancora Più facilmente In contatto Tutti insieme Ok Per quanto riguarda Questo Credo di aver detto Tutto Credo di non Scordare niente In caso Comunque poi Aggiornerò Più avanti Se non l'avete ancora Fatto Lasciate un bel like Un commento Iscrivetevi al canale E noi ci vediamo In un prossimo episodio Ciao